Il segretario può procedere con l'appello? Biamonte, Giarratana, Limeri, Arangio, La Posata, Mannisi, Valenti, Aliffi, Pulvirenti, Scuotto, Pinnisi, Musumeci, Cavarra, Blanco, Margaiotti, Di Mauro, 5 su 16 la seduta non è valida quindi viene rinviata tra un'ora alle 19 e 15. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.